Buonasera amici di Otto Goal, 9 risultati utili consecutivi per il Benevento di Auteri, 6 vittorie, 3 pareggi nella classifica del ritorno e al primo posto con 21 punti. Pensate che l'ultimo 4 a 0 risale al 2021 al vigorito contro la Regina. Vola, sogna la strega di Auteri. Indipendentemente dalla vittoria della Juve Stabia attraversa nel finale per la Turris, analizzeremo il derby col Sorrento, guarderemo ciò che è accaduto sugli altri campi e ci affacceremo alla sfida casalinga di sabato col Foggia. Lo faremo con i nostri ospiti, ma prima come sempre la copertina di Franco Santo. In sala stampa Auteri ci ha scherzato su. Non mi dite che ho azzeccato tutti i cambi, vorrebbe dire che la prima formazione l'ho sbagliata. La verità è che l'ingresso di Ciano e Simonetti prima e di Bolzius poi hanno destabilizzato una squadra come quella di Maiuri che sembrava così organizzata in campo da celare benissimo tutte le sue assenze. Ciano falso 9, Ciciretti a destra, Lanini largo a sinistra, supportato dal moto perpetuo di Simonetti. Hanno trovato subito le chiavi per scardinare la difesa sorrentina, giocando meglio tra le linee e attaccando bene la profondità. Sono bastate un paio di mosse ben concegnate per capovolgere l'inerzia di una gara che sembrava essere diventata più difficile di quanto si pensasse. Ed è finita col punteggio più largo della stagione, un 4-0 che non si vedeva da tempo dalle parti della dormiente e con un secondo posto assoluto in classifica che proclama la strega come prima antagonista delle Vespe Stabiesi. Poteva essere la serata perfetta se al menti, sui titoli di coda, il torrese Giannone non avesse stampato sulla traversa di Tiam, un sinistro ciclonico che avrebbe potuto scippare due punti di platino alla Juve Stabia. Ma non è tempo di rimpianti, piuttosto di una rinata consapevolezza che questo Benevento può trovare in ogni momento la pietra filosofale per superare le difficoltà di una partita. Auteri ha insistito sulla ricchezza dell'organico, sulla necessità di non lasciare nessuno per strada. Cinque campi possono rivoltare la squadra come un guanto e con la qualità che c'è nella rosa giolorossa, qualsiasi partita può svoltare a metà del guado. E' stata la serata di Nardi, di Ciano, di Bolzius, di Simonetti, ma soprattutto è stata la notte del Cicio, all'anagrafe Amato Ciciretti. Era stato accolto con scetticismo, quasi sembrava che il mondo del calcio non gli appartenesse più. Qualche chilo di troppo e muscoli spenti, tenuto a galla solo da quella voglia matta di pensare che una carriera calcistica non può finire a 30 anni. Quello visto contro il sorrento ha ripreso le sembianze dell'Amatino che portò la strega dalla C alla Serie A, quello che segnò a Marassi lo storico primo gol in massima serie, quello che beffò Shesny all'Allianz col suo sinistro magico. Quando il suo piedino fatato ha disegnato quell'arcobaleno che si è tuffato dolcemente nella rete del giovane del sorbo, tutti hanno capito che Amatino era ritornato. E il benevento, quello della crescita collettiva, che va di pari passo con il progresso individuale, continua a viaggiare col vento in pulpa. 21 punti nelle nuove partite con Auteri in panchina e la consapevolezza che nessun traguardo gli può essere precluso. L'analisi di Franco Santo ed ora siamo anche in diretta streaming su 8channel.tv. Ricordo che potete mandare i vostri messaggi ma anche curiosità, domande agli ospiti al numero 342 8723977. Ora andiamo a presentare gli ospiti che ci accompagneranno in questa serata. Un gradito ritorno sempre, oramai molto noto qui ad 8channel, ex allenatore del Benevento, opinionista affermato, Paolo Specchia. Buonasera. Grazie dell'invito Sonia, buonasera a te e a te dei spettatori. Da un ex allenatore ad un ex calciatore, un ala, anche lui, come chi vi presenterò dopo, faceva impazzire i difensori avversari. Giancarlo Zotti, buonasera. Buonasera Sonia, buonasera a tutti. Molto noto oramai opinionista che ci accompagna in quasi tutte le serate, firma importante del mattino, Luigi Trusio. Buonasera Sonia, buonasera a tutti. Ed ora andiamo a svelare la carta vincente. Eh sì, perché ieri ha entusiasmato i tifosi, ha fatto quello che poi è ciò che gli riesce meglio, dare, fare un calcio spettacolo. Amato Ciciretti, buonasera. Buonasera Sonia, buonasera a tutti. Felice di essere qui, me l'avevi promesso. Assolutamente, avevo promesso e ho mantenuto. Bene, allora andiamo subito con la prima slide, proprio per entrare nel vivo della trasmissione. C al quadrato, BS, la formula vincente. Perché? Ciano, Ciciretti, Bolsius e Simonetti. Beh, Paolo Specchia, effettivamente al di là del primo tempo dove il Benevento ha avuto proprio difficoltà a trovare gli spazi, una squadra contratta, ci aveva provato con delle incursioni proprio amato. Poi, nella ripresa, grazie anche ai cambi, all'inserimento di Diciano, di Simonetti, di Di Bolsius, insomma, è cambiata la storia per il Benevento ai danni del Sorrento. Il Sorrento è una squadra organizzata, solida, anche fisicamente, che aveva supplito bene alle assenze, però è un primo tempo che stava inaridendo tutto, sembrava appunto che la strega facesse molta fatica a avere ragione. Poi, i cambi, ecco, ma il ventaglio delle possibilità che ha Auteri è enorme. Quando io spesso, anche con il nostro amico giornalista Trussio, dicevo che era la migliore rosa che secondo me poteva contare tutta la C, perché credevo appunto nella qualità di questi uomini. Poi qualcuno è arrivato anche in più ora, cioè il mercato di riparazione ha portato anche Nardi, ma a questo punto la squadra non può che continuare a fare così. E' stato bravo Auteri, quando un allenatore ha personalità, carisma, mestiere, mestiere, il mestiere è impagabile e quindi la strega ha cominciato a andare come tutti quanti credevano che potesse fare. Evidentemente il giovane allenatore non ha saputo dare allora i connotati giusti. Ora con Auteri, credo che la squadra sia veramente una squadra che è portata a tutto, ha detto benissimo, complimenti a Franco Santo, è stato bellissimo il prologo che ci ha anticipati. Credo che la strega si sia incalanata con un ventaglio di soluzioni, soprattutto avanti, ma non solo avanti, perché abbiamo detto di Simonetti, rispetto a Masciangelo ha cambiato un po' la storia. La velocità, Masciangelo è un po' troppo, direi, compitino, su un binario, non viene mai dentro, è un esemplare terzino, però ecco in questo caso è arrivato quest'altro, ha acceso molte più cose. E poi Ciciretti se è quello di oggi potrebbe giocare anche in Serie A, ha detto mio amico che ha condiviso il giudizio positivo, ma lui si dovrebbe pentire se non arriva in Serie A, perché un collegato da su ci poteva arrivare come. Frecciatina di Paolo Specchia per Luigi Trusio, rosa importante. Luigi, cosa ne pensi? Forse l'allenatore giovane un po' limitava quelle che erano le potenzialità di questo organico, o è cambiato, secondo te, magari anche gli inserimenti giusti a gennaio hanno dato il contributo, e giocatori ristabiliti come Amato Ciciretti? Penso che quando parlavamo di rosa importante da una parte e di rosa meno importante dall'altra, era un periodo in cui Ciciretti non l'avevamo ancora visto, Simonetti era infortunato, Pastina era stato messo da parte per la questione giudiziaria, i tre nuovi acquisti ancora non c'erano, in più il Benevento soffrì in quel periodo anche l'assenza di Berra, che tra squalifiche e un infortunio non è stato a disposizione per ben cinque partite, che il Benevento in quattro occasioni ha perso, e quindi in quel momento quella rosa non c'era, Andrioletti non l'aveva a disposizione, per cui non è una questione di difendere per carità il suo operato, però bisogna anche dire che sicuramente non è stato fortunato con gli uomini, perché voglio ricordare anche l'infortunio di Pinato, nel migliore periodo, a Cerignola, la partita d'andata, si fecero male sia Pinato che Simonetti, quindi Pinato si è fermato per tre settimane, poi si è ripreso, si è fatto male di nuovo e da allora il vero Pinato penso che lo stiamo vedendo nelle ultime giornate, quello molto simile a quello dell'avvio di stagione e per quel che riguarda Simonetti l'abbiamo perso per tre mesi, quindi tutti questi calciatori che oggi indubbiamente stanno contribuendo ad alzare il livello qualitativo di questa squadra, Andrioletti non ce li aveva. Detto questo, oggi sicuramente c'è un atteggiamento diverso nella impostazione e questo va sottolineato, perché è chiaro che il Benevento dall'avvento di Gaeta Nauteri ha cambiato completamente filosofia anche nell'approccio, si vede che dietro c'è comunque la sicurezza che riesce ad infondere un allenatore navigato, scafato, che conosce bene la categoria e che non ha paura di niente, già lui per primo e questo ardore, questa impavidità la trasmette anche ai calciatori che credo che avvertano questa sensazione e quindi poi nel campo riesce anche tutto più facile. Giancarlo, primo tempo di difficoltà, c'è stato un legno per il Sorrento, si parla anche di un presunto rigore e va detto che forse c'era, perché insomma tante volte abbiamo parlato di danni per il Benevento, va detto perché deve essere comunque una trasmissione sempre onesta, forse in prota ha effettivamente atterrato il difensore del Sorrento. Ci sono state delle difficoltà, però poi nel secondo tempo spettacolo. Sì, hai detto tutto giusto, nel senso che il primo tempo il Sorrento onestamente ha sorpreso anche me, è una squadra molto giovane, però benissima, organizzata in modo da Maiuri, messe in campo bene, stavano lì, quando potevano ripartivano senza paura, proprio forse perché loro poi alla fine avevano poco da perdere e quindi se la sono giocati a viso aperto. Il Benevento l'ha sofferto un po' questo atteggiamento, anche perché loro si sono presentati col 5-3-2 che non è di solito, loro non utilizzano e quindi siamo andati un po' in difficoltà, soprattutto sulle fasce non riuscivamo, tranne Ciciretti forse qualche volta, ma Masciangelo per esempio a sinistra non riusciva mai ad aumentare. Poi secondo me avevamo il primo tempo, avevamo il solito difetto, quello di giochicchiare sotto ritmo. Poi il secondo tempo, quando anche gli interpreti sono cambiati, come già avete detto voi, lo stesso Ciano ha fatto delle bellissime giocate insieme ad Amato, il ritmo è aumentato, siamo entrati da tutte le parti, anche Simonetti a sinistra non me l'aspettavo onestamente, ha fatto un'ottima partita e quindi anche dall'altra parte abbiamo iniziato a spingere, il primo tempo magari era solo più a destra, Ciciretti è in prota e invece anche dall'altra parte abbiamo dato le alternative e loro chiaramente è stato difficile tamponarci e poi è venuto a fuori, dopo il primo gol è venuto a fuori tutto lo strapotere tecnico. Eh sì, va detto che Simonetti era stato utilizzato sull'out Mancino già nella partita di Picerno, va anche detto che il Sorrento era reduce da un'importante vittoria col Francavilla, quindi un po' diciamo Maiuri sta facendo dei miracoli con una squadra che chiaramente non ha speso tanto alle difficoltà del campo, per cui grande merito all'allenatore e a questa squadra. Amato, ora la condizione c'è. Sì, adesso sto bene, mi sento meglio e come ho già detto è merito credo soprattutto del mister perché in campo e in allenamento ci fa correre, ci dà intensità e credo che comunque si veda in campo. È stata una scommessa, ti sei rimesso in gioco, venivi da un periodo non bello, si è arrivato da svincolato con le difficoltà non avendo fatto un ritiro, condizione fisica non al top, difficoltà iniziali degli infortuni, però insomma alla fine la costanza, la perseveranza hanno premiato, ma forse anche un direttore, un presidente e un allenatore, parlo di auteri, che hanno creduto in te. Quanto è importante la fiducia nei momenti di difficoltà? Assolutamente, io ricordo che quando poi ero intervenuto qua con Ale, i giorni successivi mi chiamo il direttore e mi mostro subito totale fiducia. E comunque per me che ero in un momento in cui non sapevo, sono sincero, non sapevo cosa volevo fare perché mi ha anche un po' stancato, se devo essere onesto, però fare quella chiacchierata mi ha ridato consapevolezza, mi ha ridato insomma la voglia di tornare a fare quello che comunque avevo sempre fatto e poi vabbè, da quando è arrivato il mister ovviamente mi ha ridato continuità, fiducia e questo per me è molto importante perché fondamentalmente era quello che mi mancava. Importante quindi la chiacchierata con Carli, un grazie va dato anche a Ciano, perché poi il suo infortunio poverino ha portato la società a dover tornare sul mercato e quindi pescare l'arma che in questo momento si sta rivelando vincente. Però meriti, come diceva Amato Ciciretti, al mister, perché da quando è arrivato Auteri, che lo conosceva, lo ha voluto lui dal Messina, se non erro aiutami a ricordare, dal Messina arrivassi a Benevento per volontà di Auteri, che indicò il nome di Ciciretti all'allora direttore sportivo Salvatore di Somma. E' già lì, è stato un campionato strepitoso come quello che ci auguriamo. Dei ritorni, tanti, Marotta, Ciciretti, Auteri e ci sentiamo proprio le dichiarazioni del mister su questa prestazione. Se volessimo dire delle cose ovvie, dovremmo dire che nel primo tempo, non so l'attenzione, non credo, non abbiamo fatto benissimo. A tratti sì, a tratti no. Quello che ci è mancato nel primo tempo è stato un po' di continuità, con la rarità di gioco, a volte qualche errore di troppo, una capacità di destabilizzare loro attraverso i movimenti degli attaccanti, non sempre siamo stati efficaci, però comunque abbiamo creato lo stesso tra le quattro situazioni, anche se in una abbiamo rischiato, però poi le partite sono sempre molto equilibrate. Appena abbiamo migliorato il palleggio e andare a giocare fra i linei, attaccare la profondità al momento giusto, la partita l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo gestita bene, sempre con pericolosità, è una vittoria importante. Ripartiamo da quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, analizziamo quello che dobbiamo migliorare nel primo tempo e lo faremo. Bene, Specchia, la pazienza, anche perché proprio nel primo tempo le difficoltà hanno portato comunque il Benevento a non essere frenetico, perché poi rischi di prestare il fianco all'avversario, pazientare e poi chiaramente nella ripresa aspettare anche un po' che la squadra avversaria giocoforza prenda più confidenza con il campo. Sì, io credo che l'equilibrio e la pazienza in una squadra che vuole vincere non deve mai mancare, perché se si bilanci troppo, se sei troppo frenetico, esponi la tua retroguardia alle incursioni degli altri. Invece è stata, la squadra mi sembra che è cresciuta anche sul piano proprio della praticità rispetto al primo e dell'equilibrio. Prima era una squadra, secondo me, io l'avevo detto, troppo pensante, il calcio di Anderoletti, era un momentino troppo, direi, lento e scolastico, ma proprio troppo gli chiedeva delle cose che i giocatori non erano, secondo me, non erano proprio, non erano inseriti in questo contesto, erano un po' spersonalizzati. Nessuno si assumeva iniziative, mi ricordo quel fraseggio con quanti passaggi ha, ha ritroso, ha ritroso, inutile palleggio basso, no? Fraseggio basso, palleggio basso. Ora è una squadra invece che sa aspettare e poi con le qualità, con le scelte anche oculate dell'arenatore, che qua, io per esempio, Starita, no? Starita, lo ricordavo diverso, non è più quello di Monopoli, cioè, mi sembra che... Starita, non avendo peso fisico, ed è un rapido, deve affrontare l'uomo puntandolo faccia vis-à-vis, invece spesso spalle al campo, magari chiede anche l'appoggio al difensore, ma non esiste, non lo può spostare come altri, no? Quindi è un giocatore che non sta dando quello che può, parte bene, però mi aspettavo di più. E poi ecco, non va bene Starita, e i cambi di cui dispone l'allenatore, a buon vedere, sono sempre quelli che danno qualcosa in più. Ieri è successo questo, cioè, assolutamente, con una squadra che ha dato in più, magari era anche un pochino stanco il Sorrento, aveva dato già tanto, ma con la calma e con la qualità, alla fine siamo andati addirittura a fare quattro gol, credo che è veramente un trionfo, ma merito appunto di tante componenti, non sempre credo che si possa vincere 4-0, però se alcuni giocatori che ho visto ieri fanno questo, ecco, una cosa vorrei dire a Ciciretti, anche quando ho detto non sapevo cosa fare, un giocatore come lui, no? Con la qualità, perché si deve arrivare a trovare un momento che era quasi che non volesse più giocare al pallone? Ma le qualità sue devono poter pretendere a lui stesso, di poter ammire in alto, ma se questo è il giocatore visto ieri, potrebbe dare tantissimo, non solo ora, ma anche per il futuro di Beneventi, una categoria superiore. In effetti, Amato, grazie proprio al Benevento, hai avuto un po', se vogliamo, due lezioni di vita, no? Perché la prima volta hai capito che alle volte le scelte vanno ponderate, la seconda volta c'è la comprensione del fatto che bisogna sempre crederci e rimettersi in gioco. Il Benevento, effettivamente, nella tua vita calcistica ha segnato tanto. Assolutamente, io l'ho già detto e lo ripeto anche stasera, devo, se non tutto, devo tantissimo al Benevento, e rispondo a lui dicendo che è stato un periodo particolare della mia vita in cui mi erano successe determinate cose e forse non ero molto maturo da superarle. Poi sono arrivato a un punto che comunque dovevo prendere una decisione, è stata questa, perché purtroppo è l'amore della mia vita, è stato il mio primo amore, quindi non potevo fare altrimenti. Giancarlo, un lusso averlo, a dispetto dei tanti che non credevano più in lui. Ma questo ci si retti, sì. Questo ci si retti, sì. Ci si retti, giustamente, d'inizio anno, cioè di quando è arrivato. Però ecco, perché essere frettolosi nei giudizi, alle volte, e non a dar tempo a un calciatore di rimettersi in gioco. Eh, lo so, però come diceva lui, Amato, la gente avvertiva magari questo suo disagio iniziale. Anche lui, penso che da un punto di vista fisico, non era proprio nelle condizioni migliori, ha avuto una serie di infortuni, anche muscolari. Quindi, sai, la gente era stato fermo anche l'anno scorso, non è che avesse giocato tanto. Il tifoso, chiaramente, si aspetta sempre tanto dal Beniamino. Quindi, magari, era iniziato a girare delle perplessità. Io penso che per Amato sia stato fondamentale l'arrivo di mister Auteri. Perché, chiaramente, penso che si percepisce il rapporto. Quando il giocatore sente la fiducia dell'allenatore, sente l'allenatore, crede in quel giocatore, e viene fuori quell'alchimia che poi porta a queste prestazioni. Io penso che uno dei pregi maggiore che abbia avuto mister Auteri in questo frangente è stato quello di portare tutti i giocatori a considerarli importanti. Cioè, mentre prima, se voi ricordate, c'erano dei periodi in cui noi avevamo otto, nove infortunati. Perché io penso che quanto il giocatore non si sente parte del progetto, perché il mister in questo, secondo me, è bravo e sta continuando a fare bene. C'è quello che sta facendo tutti, rende partecipi tutti del progetto. Quindi nessuno si sente escluso. Anche se tu ricordi l'ultima partita col Cirignoli in casa, lui ha cambiato otto persone. Ma io penso che questo qua lui l'abbia fatto oltre che per il fatto delle partite ravvicinate, ma proprio per coinvolgere tutti, per non far sentire nessuno, per dire siete tutti allo stesso livello. E questo chiaramente adesso ne vediamo anche i benefici. Cioè, domenica avevamo 28 giocatori disponibili, di cui due sono andati in tribuna. Questo secondo me è il merito più grande di mister Auteri, che tutti i giocatori in questo momento possono essere titolari. Posso dire una cosa per te? La domanda che hai posto, il calcio di oggi non può aspettarti. Il calcio di oggi è sempre più frenetico, nel senso che chiede subito al giocatore di dare e quindi questo deve servire anche a Ciciretti per capire che se è questo tutti i complimenti, gli applausi, le considerazioni positive sulle sue qualità, ma deve dare continuità perché se gli è mancata una cosa, è stata la continuità e lo conosco da tantissimo. Io penso che Auteri nel vederlo, no? Mi sono ricordato che ora lui fa l'allenatore e non è più di primo pelo. Io l'ho avuto giocato da avversario. Era il centravanti, non mi ricordo più in quante volte ho trovato avversario ed era un buonissimo giocatore davanti. Ora lo vedo, il calcio brucia, quindi se Ciciretti vuole dare una mano a se stesso non deve mai più trovarsi in questa situazione, deve dare dimostrazione che non è solo una tantum che fa il fenomeno, lo può fare con un minimo di rendimento ma la continuità non la deve perdere, se perde la continuità diventa un giocatore anonimo. Quindi, mi raccomando, su questi livelli. Restiamo sul tema Ciciretti anche se effettivamente dopo c'era un regalo, bisognava parlarne dopo, però chiaramente tutti vogliono sapere e conoscere di più. Vado prima da Luigi, poi torno da te, Amato. Io sento dire anche in questo studio da Giancarlo, da Paolo, se questo Ciciretti, se, 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 però effettivamente non mi pare che ieri sia stata l'unica bella prestazione, sono diverse partite che sta dando il suo contributo e sta cambiando la chiave di lettura della partita, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo e, in realtà, secondo me, per avere un quadro un po' più chiaro di, di quello che può significare, secondo me, questo, questo ritorno, e, dovremmo fare un attimo un passo indietro. Consentimi, perché volevo fare un intervento dove mettere un po' in risalto alcune questioni, anche del passato, perché secondo me credo che sia giunto il momento di chiarire definitivamente questo aspetto. Io, quando lui è andato via, come tutti, ovviamente, ci sono rimasto male perché l'avevamo apprezzato, tantissimo in maglia giallorossa ci ha dato tanto e, soprattutto, come dire, era parecchio che, ecco, che non eravamo portati a gioire per un calciatore di queste qualità. Però, ovviamente, devo dire che mi sono messo nei suoi panni e ho capito la sua scelta già allora e tant'è vero che con chiunque mi confrontassi spiegavo questo. Ma un ragazzo che viene, come dire, portato tra i migliori nelle giovani della Roma poi inizia ad andare in prestito, le cose non vanno benissimo, si trova in Sereccia a Messina quasi da dimenticato, gioca e non gioca e poi riesce a trovare finalmente a ritrovare se stesso quando Auteri lo porta a Benevento. In tre anni lui si ritrova a fare Serie C, Serie B, Serie A. Da Messina dimenticato, nel giro di due anni e mezzo nemmeno, lui fa gol alla prima di campionato a Genova con la Samp, fa gol a Torino con la Juventus che l'abbiamo rivisto prima e si ritrova alla ribalta delle cronache nazionali, convocato con l'Italia se non sbaglio anche, convocazione nazionale che per un calciatore del Benevento cioè per noi beneventani era un orgoglio solo a sentire questa cosa e si ritrova anche nel mese di dicembre con un contratto in scadenza non vado a ricercare le responsabilità precedenti ma con un contratto in scadenza e con una chiamata di una squadra che in quel momento era l'antagonista della Juventus in Italia e cioè il Napoli una chiamata con una proposta 5 anni di contratto a 700 mila euro all'anno con la migliore squadra antagonista della Juve il Napoli che era forse una delle più grandi ambizioni che potesse avere un calciatore e inoltre con un Benevento che a dicembre era ancora a zero punti in classifica in Serie A io sfido chiunque perché poi è bello parlare da fuori dall'esterno e dire e ha sbagliato e non l'avrebbe dovuto fare e avrebbe dovuto considerare che il Benevento per lui non ha preso un soldo il Benevento è la società che l'ha rilanciato e lì ecco è nata la questione Ciciretti ha fatto quello che avrebbero fatto tutti io per primo avrei detto grazie al Benevento sono grato ma un contratto del genere da parte di una squadra come il Napoli che se non fosse stato apparato dentro a zero a mio giudizio difficilmente lo avrebbe chiamato ok e che se avesse dovuto pagarlo conoscendo De Laurentiis non avrebbe tirato fuori un euro oppure avrebbe tirato fuori una cifra talmente bassa che sarebbe stata rifiutata di plano per cui quella era l'opportunità della vita per un ragazzo che si è trovato catapultato in un mondo a un certo punto più grande di lui ovviamente l'ha accettata e secondo me ha fatto bene questo è il calcio il calcio è così purtroppo queste cose non accadono solo nel calcio accadono nella politica di chi cambia partito repentinamente accadono nel lavoro accadono nella vita sempre e quindi ci sta così come ci sta a mio giudizio anche il fatto che il presidente Vigorito ci rimanesse male ci fosse rimasto male ma attenzione Vigorito non ci rimane male perché lui perde l'opportunità di allungare il contratto a Ciciretti per poi rivenderlo a Napoli a certe cifre per questioni economiche lui non se ne frega niente Vigorito dei soldi del Napoli Vigorito ci resta male perché Ciciretti è il suo pupillo perché Ciciretti lo vede come un figlio e perché lui l'avrebbe tenuto a Benevento e non l'avrebbe ceduto a nessuno lui per questo ci resta male non perché non ha avuto l'opportunità di farsi ripagare un giocatore da lui valorizzato da Napoli e quindi ci sta anche che il Presidente ci rimanga male è il calcio anche questo poi andiamo avanti passano sette anni lui sicuramente non se l'è giocata benissimo questa chance però è stato anche sfortunato ha avuto infortuni ha trovato allenatori che evidentemente con un Napoli che in quel periodo faceva bene anche in Champions oltre che in Italia aveva necessità di altri profili e quindi come dire non è riuscito a trovare a realizzare questo suo sogno e quel sogno è rimasto lì appeso ci sta però che dopo sette anni perché ripeto anche questo è il calcio Ciciretti in un collegamento Skype ad 8 Channel dichiari che per lui sarebbe meraviglioso tornare a Benevento e chieda scusa al Presidente Vigorito ci sta anche questo perché questo è il calcio così come ci sta che il Presidente Vigorito che lo vede in TV e che fondamentalmente è un sentimentale Dalle 8 fu quello Skype che fondamentalmente è un sentimentale e che quelle magie ce le ha ancora ben stampate nella testa e non se le è mai dimenticate ci sta che lo perdoni da lì poi si innesca il meccanismo Ciano era infortunato il Benevento aveva bisogno di innestare un po' di qualità perché in quel momento la squadra era un po' carente sotto quel punto di vista e ci sta che Vigorito chiede a Carli che ne pensa direttore di Ciciretti e Carli risponde un giocatore che ho sempre stimato che secondo me ha colpi di categoria superiore Presidente mi ci faccia parlare e poi le dico Carli io ricordo ancora scendendo dalla Toscana perché c'era stata una pausa del campionato i due giorni che era tornato a casa scendendosi fermo a Roma e incontro a lui si vedono chiacchierano i toni sono anche abbastanza duri quelli di Carli perché cerca perché trovo un ragazzo molto come dire disilluso che in quel momento aveva bisogno di uno stimolo di una trambata ma ha parlato con Carli io parlo con tutti e in quel momento lì lui riesce a cogliere nel suo sguardo nelle sue parole la volontà di ricominciare e di ripartire da zero facendo cosa? Tornando a casa perché quando un calciatore ha vede che non riesce sostanzialmente ad ambientarsi cambia maglia ogni anno l'unico modo per tornare ad essere un calciatore vero è quello di tornare a casa non a Roma ma a Benevento perché questa è casa sua e quindi ci sta che Carli dice a Vigorito Presidente secondo me una chance gliela si può dare perché l'ho visto motivato gli facciamo un contratto con dei bonus al minimo con dei bonus legati anche ai gol alle presenze agli assist per stimolarlo perché lui ha bisogno di essere stimolato e ci proviamo tentare non nuoce ed ecco che Ciciretti è tornato a Benevento quindi io credo che anche il fatto di essersi accaniti in passato contro lui avendolo visto come un traditore secondo me nulla si sposa con questo ragionamento perché io credo che quando un ragazzo ha una opportunità del genere cioè così importante cinque anni cioè io sfido chiunque nei panni suoi a dire ah no scusate io devo far guadagnare qualcosa al Benevento quindi a questo punto rinnovo con il Benevento e poi cioè sapendo già che faceva la serie B l'anno dopo di nuovo perché il Benevento a dicembre era ancora a zero punti quando è arrivata la chiamata quindi ci tenevo a dire questa cosa perché è quello che ho sempre pensato e chiunque ha parlato con me insomma io glielo ho manifestato per cui ripeto ben venga il suo ritorno ben venga il fatto che adesso sia di nuovo a fuoco come calciatore ci auguriamo che i suoi guai da un punto di vista fisico siano terminati e penso che avendo trovato un po' di continuità cosa che gli è mancata negli ultimi anni possiamo stare un po' più tranquilli da quel punto di vista complimenti a Luigi perché era doveroso doveroso dare una spiegazione una cronologia di quello che è accaduto anche perché chi è a casa chiaramente non è che può sapere tutti e conoscere tutti in retroscena tra l'altro insomma le facce di Amato facevano capire che la stava disegnando bene l'analisi ha detto tutto però io direi di stravolgere a questo punto la scaletta perché stiamo parlando di Amato Ciciretti per cui con l'aiuto di Paolo in regia ti abbiamo preparato un regalino guardiamocelo la scurità splendente ti verrà con te perché la tua fiamma ramai è più ardente che mai tu hai il mio test di Dragon Ball io so che tu lo sei Dragon Ball perché c'è il padre che c'è quando è tu la tua fiamma è più ardente tu hai il mio test di Dragon Ball oh 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 Dragon Ball oh 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 why c'è il test di Dragon Ball tu non ce lo dirai Dragon Ball ma tornerai e già lo sai che il buio vincerai Dragon Ball 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 e chi non ha visto Dragon Ball sicuramente Fabrizio Angrisani che ha realizzato questo splendido omaggio ad Amato Ciciretti avremmo dovuto dire Super Saiyan ma noi ci accontentiamo di sua maestà Amatino beh in effetti Amato un diciamo un omaggio doveroso per quello che hai fatto in passato per quello che stai ancora dimostrando di avere e di poter dare una curiosità perché prima Giancarlo mi ha afferto un assist che non vuole essere una provocazione anche Luigi parlava di tanti infortuni però che cosa è cambiato perché poi con Andreoletti avevi effettivamente difficoltà a tornare in campo nonostante l'attesa poi arriva Oteri e è vero che lo chiamiamo il mago però poi sta bacchetta magica non è che ce l'ha per davvero cosa è cambiato forse qualcosa anche nella preparazione ma guarda Sonia io ho avuto dei problemi anche con l'altro mister è vero però ricordo anche di essere stato un pochino a disposizione se non ricordo male non so quante partite consecutive e il mister non mi ha utilizzato non mi ha dato comunque modo di di poter riprendere un pochino di condizione il mister quando è arrivato a Oteri la prima partita che sono stato a disposizione io fondamentalmente avevo fatto una settimana di allenamento e mi ha buttato dentro un quarto d'ora secondo me la differenza è semplicemente quella mi mancava la partita perché io da solo anche in estate ho fatto tutti i giorni i lavori atletici ma non è uguale quello che poi ti manca è la partita è il palleggiare con i compagni il rincorrere in avversario e fondamentalmente se prima non avevo non mi è stato dato questa opportunità il mister Oteri lo ha fatto e secondo me è semplicemente quello poi ovviamente i vari infortuni erano comunque dati dal fatto che ero stato un pochino fermo però secondo me la differenza l'ha fatta semplicemente questo Paolo Specchia in effetti pensando anche a quello che ha detto Amato il fatto di non usare di temporeggiare era un po' il discorso di Andrioletti questa squadra non può reggere le tre punte Auteri ha smantellato questa teoria io ricordo qui proprio con Trucio si parlava appunto ma perché non mettete tutte e tre gli attaccanti giocando in casa poi non c'ha soluzioni dopo è chiaro che se uno ha una rosa risicata e non ha soluzioni ma se io posso scateno tutta la forza offensiva che ho si può ci sono cinque cambi ha dato qualcosa deve essere un pensiero dell'allenatore volendo vincere volendo fare cose mirabolanti a Benevento che lo merita per la struttura del Benevento societaria storica direi del recente passato Benevento non può stare in questa catturina non dovrebbe starci mai ora devi risalire c'è un potenziale lo sfrutto subito poi è chiaro l'allenatore c'ha anche delle esigenze di natura tecnico-tattica di natura visiva ci ha visto qualche che dura non sta benissimo se stanno bene però io li scatrino tutti perché voglio vincere e i tre ti permetto di vincere tre insieme poi io non conosco bene Anderolette ho avuto un'impressione che chiedesse ai giocatori qualcosa che andasse al di là delle loro caratteristiche non mi mettevi in condizioni di dare il meglio per quello che poteva in tanti erano fuori ruolo e poi ecco questi fuori ruolo mi ricordo tante volte abbiamo fatto le grafiche qualche mi ricordo dall'altra parte un mancino a destra che non si capiva perché tante quelle cose che un po' astruse astruse ma comunque questo non per criticare Anderolette che sicuramente farà bene perché per averlo scelto Carli sono sicuro che ha valori magari crescendo maturando diventando più esperto e più pratico potranno dimostrare il merito di sé però ecco questo va dato atto a Uteri che l'esperienza conta tanto e ripeto se Sigiretti e gli altri tengono una condizione come quella che di ieri ma tutti quelli che hanno giocato al secondo tempo hanno fatto meglio di qualche altro io credo che il Benevento potrà solo rosicchiare ancora spazio e poi se la giocherà magari in quella partita in casa che avrà a disposizione per avere la meglio della Juve Stabia L'augurio per il Benevento e noi ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario tra poco E il Benevento vince col Sorrento la Juve Stabia però non si ferma batte anche nel derby la Turris al di là di quella traversa nel finale guardiamo un po' il turno giocato cosa è accaduto sugli altri campi perché c'è da dire insomma che il Benevento comunque ha approfittato del mezzo passo falso dell'Avellino e del Picerno Taranto-Catania 1-0 Messina-Picerno 2-2 Casertana-Brindisi 2-1 Monterosi-Avellino 1-1 Monterosi che recupera nel finale con l'Avellino in 10 uomini Potenza-Giuliano 1-0 Latina-Cerignola 2-2 Benevento-Sorrento 4-0 Foggia prossimo avversario della strega sabato in notturna al Vigorito Foggia-Crotone 2-1 Juve Stabia Turris 1-0 Francavilla Monopoli 0-0 guardiamo la classifica perché è interessante è vero che il Benevento non raccimola punti sulla Juve Stabia che però prossimamente sarà impegnata nel derby con la Casertana in casa e all'andata se non ero perse proprio persero le vespe al pinto di Caserta però il Benevento riesce a portarsi solitario al secondo posto a 51 punti 1-1 in più del Picerno 2-2 rispetto all'Avellino parto da te Giancarlo Zotti beh insomma si guarda alla Juve Stabia questo è vero l'abbiamo sempre fatto ci sarà una grafica come in tutte le nostre puntate però comunque pareggio del Picerno e quello dell'Avellino hanno permesso al Benevento poi di non dico di togliersene due perché la classifica è cortissima però quantomeno di portarsi avanti ma è chiaro questo l'ha detto anche mister Auteri sia la vittoria nel modo così squillante come è avvenuta e sia il fatto che comunque tu sei secondo cioè queste sono cose che sembrano piccolezze ma chi ha giocato mettono comunque entusiasmo soprattutto poi al pubblico anche poi in chiave playoff speriamo di no però una cosa è arrivare secondo lo sappiamo benissimo con i vantaggi che hai nella fase finale una cosa è arrivare terzi o quarti io penso che Benevento per come sta marciando adesso non voglio essere così uccello di malaugurio però penso che Benevento abbia anche nelle prossime quattro partite Benevento abbia delle partite abbordabili a differenza della Juve Stabia e delle altre concorrenti e si ricordiamo lo Foggia in casa poi giovedì a Potenza e poi Messina in casa quindi a tutte squadre di media classifica insomma con cui te la puoi te la puoi giocare e io penso che se Benevento riuscisse a fare un filotto io penso che ci potremmo trovare alla fine di queste tre di queste tre partite in una posizione ancora migliore di come siamo adesso cioè a qualche punto sicuro secondo me lo recupereremo rispetto alle Juve Stabia perché dopo la Juve Stabia dopo la Casertana che non è facile andrà a Latina e poi mi sembra che ha il Catani in casa poi lo vedremo esatto quindi io penso che queste quattro partite saranno fondamentali per stabilire o per capire se il Benevento potrà ancora ambire al primo posto oppure giocare a me di questa classifica qua onestamente che è stata la sorpresa di me è il Taranto il Taranto sta facendo il Zio Lino Capovano sta facendo un miracolo perché stare sopra alla Casertana al Crotone a pari con l'Avellino secondo me il Taranto è un'altra squadra che poi dovranno affrontare sia la Juve Stabia quindi le nostre avversarie hanno delle partite secondo me sulla carta anche se questo campionato ha dimostrato che partite facili non ce ne sono ma senz'altro più dure di noi eh sì e Zio Lino Capuano al di là del suo fare sui generis va detto che è un conoscitore della categoria Luigi Vittoria è importante anche alla luce dei risultati sugli altri campi ma che centrocampo Nardi Pinato o un bel affiatamento guarda devo dire la verità insomma è entrato bene anche Italia assolutamente e secondo me la notizia che emerge proprio importante da questa partita è il fatto che Autari abbia ritrovato Pinato cioè nel senso che se ne sono dette tante su Pinato cioè che non era adatto al centrocampo a due che non era adatto non era funzionale il gioco di Autari e secondo me era un peccato perché secondo me parliamo di un calciatore che in Serie C può fare la differenza Reduce l'anno scorso da un ottimo campionato a Pordenone che ha fatto anche la B con discreti risultati ricordiamo che era un pallino di Inzaghi che lo aveva avuto a Venezia e quindi era importante ritrovare un altro un altro membro di questo gruppo è vero perché quando Autari sottolinea che ha bisogno di tutti cioè dell'apporto di tutti lui non lo dice tanto per lo dice perché ci crede veramente per cui l'utilizzo di Pinato è la dimostrazione che magari in un centrocampo che poteva sembrare all'apparenza insomma che perdesse in termini di velocità perché è giocato con due giocatori più strutturati fisicamente invece devo dire che Pinato mi è piaciuto sia nel primo tempo che è stato uno di quelli che in un primo tempo molto grigio ho salvato insieme a Ciciretti secondo me sono stati i due migliori e allo stesso tempo nella ripresa poi è cresciuto anche di più la cosa che che mi preme sottolineare è che il rendimento quando in rosa tu hai un calciatore che è in grado di fare la differenza e che dipinge calcio il suo rendimento elevato contribuisce ad alzare ad innalzare il rendimento anche dei compagni perché? perché quando il compagno sa che c'è qualcuno che può inventare da un momento all'altro una giocata per mandarti in porta che c'è qualcuno a cui se sei in difficoltà scarichi il pallone sai che non lo perde se c'è qualcuno che sai che nel momento di maggiore difficoltà può tirare fuori il coniglio dal cilindro tu giochi anche più tranquillo quindi e devo dire che io ho visto nel secondo tempo anche un Pinato che è riuscito a giocare due o tre volte in verticale anche in velocità dando un contributo anche alla manovra all'accelerazione perché il Benevento nel secondo tempo che cosa ha fatto? non ha fatto altro che velocizzare la circolazione il pallone nel primo tempo camminava lento il Sorrento chiudeva tutte le traiettorie io devo dare atto anche a Enzo Maiuri di aver predisposto in campo una squadra messa benissimo che ha messo in difficoltà il Benevento con l'aggressione andandoli a prendere alti e poi no aveva un'ottima capacità di ripartenza l'ha studiata bene sapendo di avere una difficoltà nei due centrali che erano le due riserve si è messo a tre dietro ha messo to disco che accompagnava Morichelli e Di Somma è stato bravo perché poi ha voluto mettere a destra un altro Trezzino Vitiello a sinistra comunque Colombini pur non avendo Loreto che se avesse avuto Loreto avrebbe giocato a quattro invece ha giocato con Colombini come quinto ha fatto molta densità a centro campo e quindi ha messo in difficoltà il Benevento c'era una sola soluzione e cioè quella di velocizzare il gioco come? innestando qualità perché nel primo tempo ci sono stati anche diversi errori tecnici molti passaggi sbagliati errori di misura un po' dettati dal fatto che il Sorrento ti lasciava poco spazio e non ti garantiva la necessaria lucidità per le giocate però anche un po' perché c'è stata un po' di imprecisione un po' di fretta come diceva il mister prima la calma la pazienza la saldezza di nervi sono le virtù dei forti bisogna sapere aspettare e all'occorrenza saper dare delle variazioni al tema Gaetano Tari non ama parlare dei singoli lo salutiamo perché ci sta guardando però noi lo facciamo parliamo dei singoli amato in Chisale questa sera abbiamo messo Ciciretti ovviamente Ciano e Nardi però io credo che anche in Prota meriti una nota perché lui nei due gol sia nel tuo gol che in quello di Ciano ci ha messo lo zampino anche lui è in grande crescita ma sì penso che Riccardo non lo scopriamo stasera la sua carriera comunque parla parla per lui e è un professionista esemplare è un ragazzo veramente che ogni giorno viene un'ora prima al campo e si dedica al suo corpo al suo fisico e quindi è quello che merita ieri sera secondo me ha fatto una prestazione anche lui eccellente ma come del resto penso tutta la squadra tu ora hai detto abbiamo in Chisale Nardi abbiamo messo anche Nardi però penso che sia difficile anche trovare chi scende ieri e dopo te lo dico ma è difficile non lo so però è complicato l'ha trovato hai ragione è stato davvero complicato chi scende ci abbiamo messo Starita Masciangelo e poi insomma qui veramente abbiamo fatto fatica però abbiamo premiato chi anche ha segnato quindi ci abbiamo messo dentro Lagnini Paolo Specchia vengo da te Starita preso dal Monopoli perché effettivamente sembrava che avesse ma non il vizietto del gol di più cosa sta accadendo? non so anche io ti ho detto prima nell'intervento fatto precedentemente non lo ricordavo molto più essenziale concreto devi far la punta non è più quello che va al sodo mi sembra un giocatore che sta dando meno di quello che può ma auguriamoci quindi che anche lui cresca migliori può anche darci un aspetto mentale sente una pressione una squadra importante come il Benevento a Monopoli era diverso io ho lavorato anche in Puglia sono così calosi così vicini però un conto sarà a Monopoli un conto sarà a Benevento quindi devi poter accettare che ora sta in un consesso diverso con gente molto molto forte vediciano vedete tutti quanti Ferrante stesso però deve essere più incisivo deve essere più pratico perché ancora non è l'austerità ti ho detto qualche volta vedo che riceve palla a spalla si mette spesso spalla alla porta lui invece deve andare deve essere diventato magari in velocità che è veloce ha una gamba straordinaria però deve essere più incisivo non lo è ancora Giancarlo Masciangelo ha anche fatto bene in passato quindi nulla da dire però la vastità di questa rosa ti dimostra che non si può perdonare nulla perché c'era l'alternanza Masciangelo-Benedetti e poi a un certo punto spunta Simonetti che quel ruolo lo può fare eh sì come ti avevo detto prima a me mi ha sorpreso di fatti perché tutti noi il cambio il cambio che tutti pensavamo per Masciangelo fosse stato Benedetti e invece il mister ancora una volta perché chiaramente poi il problema è questo che il mister e questi giocatori li vede pure durante la settimana quindi riesce a capire magari avrà visto Benedetti in condizioni non buone soprattutto poi in base alle ultime prestazioni e magari ha visto un Simonetti in grande spolvero e ha ritenuto di poterlo quando poi un giocatore è in piena fiducia è in forma dove lo metti metti alla fine ti rende e chiaramente non penso che tutti ci aspettavamo una resa di quella maniera perché ha fatto un secondo tempo strepitoso sia sul piano della corsa degli inserimenti ma anche in fase di contenimento ha fatto un'ottima partita e questo quello che dicevamo prima la bravura del mister Autere è stata questa cioè quella di portare tutti i 28 giocatori della rosa allo stesso livello e facendogli capire che chi merita lui lo dice sempre lui non giudica in base al passato ma quello che vede e quindi li mette in campo quindi ognuno poi è stimolato a fare bene Luigi in chi sale e chi scende non c'è la difesa secondo te come si è comportata? Secondo me discretamente bene nel senso che il Sorrento soprattutto nel secondo tempo ha fatto pochino si è affacciato quasi mai dalla parte di Paliari e come dire la prestazione dalla cintola in su è stata talmente importante che non c'è stato un grande lavoro nel primo tempo ci sono state un paio di ripartenze pericolose ci sono state un paio di situazioni in aria che il Sorrento poteva sfruttare però in realtà non è che gli è stato concesso molto per cui forse ecco c'è stata qualche difficoltà all'inizio quando si trattava di di tenere sull'uomo a volte qualcuno è andato a vuoto a volte come dire qualche fallo di troppo dovevano un po' prendere le misure devo dire la verità che Ravasio è un gran bel giocatore anche difficile da marcare anche difficile da marcare perché a dispetto di una struttura fisica imponente è molto veloce quindi si muove negli spazi infatti anche per questo io come dire avevo dato quasi per scontato che giocasse Capellini dall'inizio proprio è una questione di gamba perché Ravasio invece poteva indurre in errore il fatto che Ravasio sia grosso fisicamente ma in realtà anche veloce quindi credo che Audari abbia ragionato nella scelta tra lui e Terranova abbia ragionato in quest'ottica posso dire una cosa scusa a proposito della difesa io ho visto domenica due o tre belle cose da un punto di vista tattico di il ragazzo il mancino nostro Pastina cioè che questo anche questo secondo me fa parte del lavoro di Mistrauteri cosa che prima non faceva lui ha fatto delle diagonali ma nella zona centrale del campo che se di fatti se l'erano un po' persi i giocatori i nostri sia Berra che Capellini e lui ha fatto delle chiusure dalla fascia andando verso il centro e due o tre volte ha interrotto delle azioni importanti quindi io vedo che anche Pastina anche da busta tattico sta migliorando struttura e piede ce l'aveva già però io vedo che sta migliorando anche da un punto di vista tattico e tecnico quindi penso che anche qui c'è lo zambino di Mistrauteri perché questi movimenti non li ho mai visti fare sono d'accordo con lui io di Pastina ho una grande stima però prima si lasciava andare direttricamente anche la postura era lenta ora si vede che sta lavorando meglio proprio riesce a fare molte cose in più naturalezza si muove anche quando la palla è in una scuola è evidente mentre qualche volta nella presenta di gestione non me ne voglia ripeto però non era così mi sembrava un po' un giocatore supponente pure un giovane uno che con le qualità sue mancano difensori mancini con la sua qualità la sua prestanza deve fare di più può ambire veramente però credo che deve fare proprio il professionista totale e avere una guida come Auteri lo aiuterà in questa sua ricerca di migliorare perché può farlo Luigi peccato per quel giallo peccato per quel giallo perché però devo dire la verità che insomma a dispetto di questa forzatura un po' iniziale di tenersi questo cartellino addosso per tutto quel tempo invece poi l'ha gestita molto bene eravamo tutti un po' terrorizzati dopo un cartellino dopo un minuto ma questo il Benevento ce l'ha un po' come caratteristica è capitata anche un paio di volta a Berra se non sbaglio a Taranto e anche a Picerno di aver preso un cartellino proprio nei minuti iniziali e quindi di giocare sempre con questa spada di Damocle sulla testa però devo dire che i nostri difensori sono spesso portati a gestirsi bene e poi secondo me ha fatto bene anche Auteri a un certo punto a toglierlo uno perché non voleva correre rischi ma secondo me soprattutto perché ha cominciato anche a fare un po' le prove per la partita col Foggia avendo diciamo una strada un po' spianata davanti sul piano del risultato quando stava bene con Donato 2-0 e devo dire la verità anche l'innesto un po' di Terranova con l'allargamento di Capellini a destra e lo spostamento di Berra a sinistra sarà necessario per la partita certo sì perché chiaramente Passina non ci sarà però devo dire che anche anche il Foggia poi lo vedremo insomma come il Sorrento dovrebbe avere fuori tutte e due centrali titolari perché il Colani è stato squalificato ha beccato una munizione al 96esimo e Carello è uscito per infortunio un fortuna al ginocchio che insomma ancora non si sa l'entità ma insomma è abbastanza difficile che possa recuperare sono i due titolari per cui anche il Foggia come il Sorrento dovrà mettere qualche pezzo in difesa il Benevento deve guardarsi le spalle però deve soprattutto guardare avanti alla Juve Stabia perché effettivamente non si ferma ma c'è un augurio un augurio che secondo me ha riempito il cuore di tutti i beneventani la speranza che possa essere un campionato come quel famoso 2016 sentiamoci un po' le parole dell'ex giallorosso Maiuri cosa ha detto di questo Benevento? Secondo me bisogna crederci perché c'è tanta tanta qualità tantissima qualità nel Benevento per cui sette punti di distanza di distacco sono tanti però possono anche essere ridotti io come ho detto prima ragiono come se ne fossero quattro perché se non vince lo scontro diretto poi dopo si parla di aria fritta e quindi c'è tanto da fare tutto molto aperto e auguro al Benevento con tutto il cuore non me ne vogliono quelli della Juve Stabia assolutamente perché non nulla su di loro però auguro chiaramente al Benevento di vincere questo campionato dalla porta principale oppure anche magari dalla secondaria attraverso i playoff perché hanno tutti i numeri a posto per poterlo fare auguro al Benevento di vincere questo campionato strega credici le parole di Maiuri dopo la sconfitta del suo sorrento che ricordiamo l'aveva vinto contro il Francavilla nonostante l'inferiorità numerica guardiamoci proprio questa questa grafica che ci illustra il cammino del Benevento e quello della Juve Stabia fino allo scontro diretto in effetti lo stiamo facendo vedere spessissimo e come diceva perché se vogliamo Giancarlo aveva un po' anticipato questo discorso la Juve Stabia forse ha un campionato un cammino un campionato un cammino più difficile di quello del Benevento soprattutto la prossima perché è vero Paolo Specchia che ieri non è riuscita la strega a rosicchiare i punti però sabato per carità c'è il Foggia quindi testa a questa sfida però la Juve Stabia c'è la casertana che aveva fermato seppur al pinto la squadra di Paiuca credo che sulla carta tra le due squadre che sono avversarie di queste nostre prime due Juve Stabia e Benavento sta messa a peggio la Juve Stabia ma io suppongo che la Juve Stabia possa avere ancora qualche calo fino ad ora è stato esemplare però anche sul piano appunto ho parlato con una persona che l'ha vista spesso le avversarie delle Juve Stabia ora diciamo che ogni squadra ha le qualità particolari che sono abbastanza reggibili per esempio la ricerca sempre del secondo palo dove vanno a cercare sempre non arrivano sul fondo la mettono dal fondo la mettono da tre quarti quindi mettono sta pala lunga e poi tutti quanti in casa vanno a cercare non solo in casa ma soprattutto in casa vanno a attaccare il secondo palo e lì ha trovato le migliori soluzioni per il gol e per i successi e ora vedo che un attento allenatore e ce ne sono tanti in questa categoria riesce a fare qualcosa per cui non ha questo strapotere che aveva all'inizio ha stentato poteva forse meritare il pareggio nel senso ha accorso il rischio di pareggiarla quindi la vita potrebbe anche avere qualche piccola crepa Giancarlo effettivamente insomma il Benevento sta dimostrando come diceva anche Maiuri una maggiore qualità ma soprattutto bassità della rosa che alla lunga potrebbe premiare proprio i giallorossi ma senz'altro questo lo dicevamo dall'inizio adesso invece si sta proprio manifestando palesemente cioè nel senso avere a disposizione 28 giocatori che quasi tutti sono lo stesso livello tranne qualche eccezione dove tu puoi pescare puoi gestirti la prossima settimana ci sarà di nuovo un turno infrasettimanale quindi giocherà di nuovo tre partite in una settimana e quindi avere la possibilità di ruotarli ed essere tranquillo di mettere in campo sempre giocatori che comunque se la possano giocare con tutti io penso che questo sia un grosso vantaggio che poche delle altre squadre pensano che se lo possano permettere la stessa Juve Stabia sta facendo un anno eccezionale ma proprio perché sono quegli anni particolari dove va tutto bene non hai grossi infortuni io quando vincevo il Camionato col Benevento per esempio eravamo 13 contati e le rose non erano queste però comunque non ci fu nessuno che ebbe un grosso infortunio bastava che si infortunasse non solo d'Ottavio e non avevamo il cambio quindi sono quelle annate che vanno bene così però io penso che a lungo andare poi quando la stanchezza ci sarà ci saranno queste partite importanti la rosa inizia ad essere fondamentale cioè la partita che non sblocchi e hai tre dei nostri come i nostri giocatori da mettere in campo per cercare di ribattarla senz'altro è un vantaggio che tu potrai nelle ultime partite soprattutto si farà sentire Amatino step by step partita dopo partita ma voi ci credete? Sarebbe sarebbe da stupidi non non crederci però credo che tutto passi da gara dopo gara e adesso noi dobbiamo fare i punti sabato e pensare alla gara del Foggia poi dopo si vedrà però ora pensiamo al Foggia pensiamo a vincere la partita col Foggia e poi dopo vediamo cosa fanno loro Luigi il cammino fino allo scontro diretto ricordiamolo che sarà al vigorito all'andata al menti il Benevento ha perso però sulla panchina c'era mister Andreoletti uno scontro diretto che anche Maiuri ha detto bisogna darlo quasi per scontato il Benevento deve far suo se vuole vincere questo campionato ma sì questo questo mi pare evidente insomma fa piacere avere anche come dire il tifo di Maiuri nella speranza che poi il Sorrento possa anche un po' aiutarci magari fermando qualche diretta concorrente nostra che deve ancora incrociare fa veramente piacere volevo spendere una parola per questo allenatore che si è fatto dal basso dopo tanta tanta serie D finalmente è riuscito a vincere un campionato e ha trovato una società che gli ha dato fiducia anche in serie C e devo dire che sta facendo un torneo onorevolissimo con una squadra costata molto poco con tanti giovani che gioca sempre fuori al nono posto che non ha uno stadio e che quindi deve farsi 250 km ogni volta per giocare in casa carina anche la protesta dei tifosi del Sorrento che hanno indossato queste pettorine catarifrangenti da cantiere con lo striscione e lo stadio lo facciamo noi proprio perché aspettavano un segnale devo dire la verità il Maiuri ha detto bene bisogna dare per scontato che tu lo scontroietto lo devi vincere però l'importante è riuscire a rosicchiare questi quattro punti fondamentali nel proseguo diceva Giancarlo ci sono quattro partite alla portata io dico che ne sono sei perché ce ne sono sei e su sei quattro le giochi al vigorito una l'hai già giocata ne sono rimaste cinque le giochi nel giro di 26 giorni e quindi è qui che si decide il campionato d'altro canto se andiamo a risentire anche la conferenza di Autari pregara lui stesso dice ed è uno che si sbilancia poco il mister di solito dice le prossime partite saranno decisive il prossimo mese mese e mezzo si decide quello che vorremmo essere da grandi e cioè in questo mese dipende da questo mese dipende tutto il campionato fino a fine marzo fine febbraio fine marzo sono sei partite ne giochi quattro in casa oltretutto con avversari alla portata perché oltre diciamo al sorrento poi Foggia avrà il Messina e avrà il Monopoli e sono quattro squadre e poi in trasferta devi giocare a Potenza e l'altra se non sbaglio adesso non ricordo ma ecco ce l'abbiamo lì a Monterosi sono sei partite insomma come dire è vero che il Benevento di Androletti proprio quando doveva passare l'esame di laurea per diventare grandi è crollato con le piccole vedi Giuliano quando ha rischiato seriamente di perdere la partita e vedi Monopoli quando è tornato a casa con tre gol sul groppone con una prestazione assurda e quindi vincendo anche a fatica con il Monterosi tra l'altro in mezzo quindi proprio quando le piccole volte possono rappresentare delle bucce di banana però io credo che il Benevento di Auteri per come è lanciato per come sta trovando una sua identità per come abbia una varietà un ventaglio così aperto di opzioni da poter attingere basta sentire il mister e ripeto lui non lo dice tanto per quando dice mister sarà squalificato Pastina e sì e che fa ce ne abbiamo tanti giocheranno gli altri abbiamo una squadra che ha risorse in tutti i ruoli che ha doppioni se non addirittura un triplo interprete per ciascuna settore o reparto questa squadra davvero in questo momento non manca nulla anzi dobbiamo incrociare le dita speriamo che come dire le cose vadano sempre per il meglio che non ci siano infortuni squalifiche c'è una spada di Damocle dei diffidati perché da nove adesso sono diventati otto perché Pastina sarà squalificato ma sono sempre otto diffidati e quindi qualcuno inevitabilmente verrà a mancare nelle prossime giornate però oggi non è più come prima che quando ti mancavano uno o due giocatori andavi in crisi perché non sapevi dove mettere il rappezzo e oggi hai due squadre hai due squadre e questo secondo me il valore aggiunto del Benevento nessuno può contare una panchina come quella del Benevento cioè nessuno si può permettere il lusso in questo campionato di fare entrare gente come Ciano Ciciretti piuttosto che Lanini Ferrante Marotta lo stesso Volsius ma anche Cassio ha dimostrato di poter dire la sua hai veramente un ventaglio di scelte che non finisce mai anche a centrocampo che ieri per esempio anche Italia è entrato benissimo un'altra cosa che mi ha fatto specie io ho sempre sostenuto qui Ciano dall'inizio mi sembrava un tipo di calciatore quando poi subentrava forse non riusciva ad avere quell'impatto sulla partita ieri mi sono dovuto ricredere perché è entrato fortissimo e anche lui addirittura si è messo a fare l'attaccante centrale e devo dire la verità ha fatto vedere anche spalla alla porta come si stoppa il pallone come si prende il fallo con il mestiere e con l'esperienza come si smistano questa qualità tecnica spalla alla porta di fatto lui è tecnicamente un giocatore straordinario per l'amor di Dio però ti ci devi adattare quindi devo dire che anche lui mi ha stupito favorevolmente così muoitalia che ha dato una grande palla a Simonetti per il gol del 4-0 insomma parliamo di secondo me ieri è stata una prestazione galattica uno dei galattici sta qua e abbiamo visto un grande benevento nel primo tempo qualcosa si deve migliorare bene fa Auteri a metterseli sotto secondo me non so se l'hanno fatto già stamattina ma rivedete la partita questi sono ieri insomma io vi dico vi svelo un segreto avevo preparato tutt'altra grafica iniziale che non vi dirò perché me la conserverò poi ho pensato sì però c'è anche il primo tempo e allora sono andata sulla formula magica che poi sono i 4 gol che hanno entusiasmato in questo secondo tempo effettivamente spettacolare però poi mi sono dovuta soffermare anche su un primo tempo però amato quella slide che ho nella testa io la lascio lì nella testa per cui alla prossima voglio rispolverarla Luigi Druso parlava di una fase importante delicata decisiva quella che sta per arrivare che si è già intravista nella sfida col Sorrento come ci arriva il Benevento bene o benissimo perché ieri il risultato l'ha legittimato forse la Juve Stabia no perché è stata anche un pizzico fortunata per quella traversa della Turris noi arriviamo arriviamo bene stiamo bene fisicamente penso che si è visto che stiamo bene le qualità tecniche le avevamo anche prima e ti ho detto prima adesso dobbiamo pensare a sabato che giochiamo contro il Foggia per noi l'obiettivo principale è fare i tre punti con il Foggia poi dopo si penserà a Potenza e poi dopo tutte le altre il risultato della Juve Stabia lo vedremo dopo che avremo vinto col Foggia se vinciamo altrimenti è inutile secondo me guardare la Juve Stabia se noi non facciamo risultato giusto giustissimo e noi abbiamo un'altra pausa poi però torniamo perché ci sarà uno Skype una vecchia conoscenza di Amato Ciciretti a tra poco e allora vediamo se è pronto lo Skype chiediamo alla regia se è pronto vediamo un po' se eccolo qua io lo vedo già eccolo qua Michel Cruciani bentornato a Benevento buonasera grazie mille buonasera a tutti era correva l'anno 2016 un anno magico per il Benevento ma io ti faccio subito salutare da un tuo ex compagno di squadra vai Amato buonasera a barba come mai sto diventando vecchio rispetto al 2016 è passato troppo tempo a te però vedo che a te non ti cresce però niente prova a tatuattela magari come stai bene bene lo so e in studio con noi c'è anche Paolo Specchia ex allenatore del Benevento quanti ex Giancarlo Zotti ex Ala Giallorossa giornalista del mattino Luigi Truso e poi l'hai visto ci hai parlato Amato Ciciretti quanti ricordi ti portiamo alla luce abbastanza abbastanza soprattutto con Amato c'erano diversi quindi è stato un anno bellissimo quindi è un ricordo sicuramente che porto dentro di me molto bello e con molto piacere sono molto vi ringrazio per questo invito ecco perché mi fa molto piacere questo Benevento torna Marotta torna Ciciretti e poi torna Gaetano Auteri un Benevento che si porta secondo in classifica cosa può fare anche perché quell'anno pure comunque c'erano squadre avanti alla strega che però non ha ammainato le bandiere ed è stata premiata quindi ci vedi un po' di quel Benevento in quello di oggi? Diciamo che noi siamo partiti un po' col Ministeri quindi sapevamo che è un allenatore molto preparato e che chiede tantissimo a noi chiedeva tantissimo ha chiesto tantissimo ai giocatori quindi sapevamo che nel girone di ritorno quell'anno sicuramente avremmo dato fastidio a tutti quanti e prenderlo in corso ecco questo non lo so però sono sicuro che è un allenatore troppo forte per la categoria io ho sempre detto che è stato il più forte che ho avuto nella mia carriera quindi penso che quello che stanno facendo adesso è qualcosa di importante che devono continuare a fare ecco questo è poco ma sicuro Michel ricordo bene tu sei andato via a gennaio giusto? aiutami a ricordare sì andai via in prestito a gennaio sì nonostante poi giocare quasi sempre hai comunque firmato anche tu chiaramente la storica promozione perché poi un campionato è fatto con i gironi un angolino piccolo piccolo un angolino piccolo piccolo che però te lo tieni stretto assolutamente sì senti che cosa fai attualmente raccontaci un po' ecco che faccio il bapo faccio il bapo aspetta more sto parlando vieni no attualmente continuo ancora a giocare sono un'eccellenza in una squadra qui di Siena dove ho ritrovato diciamo tutti gli allenatori direttori che avevo in passata a Siena e sono sincero mi sto divertendo tantissimo perché ho sempre desiderato e sperato di poter chiudere la carriera divertendomi e lo sto facendo sono sincero quindi le cose stanno andando anche abbastanza bene hai qualche domanda per Michele che chiaramente è il mio figliolo ogni tanto fa senti no dai figurati sono questo è il bello dei bimbi che fanno questa azione di disturbo che però come dire è anche un po' simpatica da vedersi penso che con Amato insomma avete questo in comune che state come dire chiudendo la carriera divertendovi perché anche lui è venuto qui si sta divertendo tanto finalmente anche se manca ancora un po' devo dire la verità anzi noi speriamo che manchi ancora tanto ma io spero per lui perché se sono già il pensiero ti smetti vengo lì io prendo per le orecchie e do due schiafi quindi no no lui è ancora tanto lui sa cosa penso di lui perché io l'ho detto tantissime volte deve trovare quella sua serenità quella tranquillità che a sé che lo contraddistingue e poi penso che la differenza la fa in qualsiasi categoria l'ha dimostrato deve solo andare tranquillo e sto sicuro che tornerà sicuramente a far divertire tutti quanti Michel lui si può dire che è tornato a casa e ha ritrovato il suo primo maestro assolutamente sì quindi l'ambiente ideale per per rilanciarsi ma sì ma io era allora questo poi rimane un pensiero mio ovviamente le cose che ho detto lui diciamo che all'epoca fece anche bene no per poter provare un qualcosa importante è normale tutti noi calciatori aspiriamo a qualcosa importante a lui è capitato ed è giusto che ci ha provato e c'è riuscito non c'è riuscito ma comunque penso che questa stagione a Benevento possa soltanto che fargli bene per ritornare quello che è beh lui Benevento bene a lui lui bene al Benevento perché ieri Michel ha fatto una partita incredibile ha anche segnato ma forse il gol bellissimo però passa in secondo piano per la prestazione quindi la dimostrazione che quando c'è volontà caparbietà anche un pizzico di pazienza poi i risultati tornano ad arrivare sì è quello che ho detto prima fondamentalmente lui ha bisogno di quello bisogno di stare tranquillo e di divertirsi tecnicamente è uno dei giocatori più forti con cui ho mai giocato quindi il gol di ieri per me era normale l'idea vederglielo fare in allenamento quindi sono contento per lui mi vuole bene perché se no avrebbe detto ti vuole bene però vuole bene anche ad Auteri hai detto il migliore allenatore che hai avuto giusto? sì sì assolutamente ieri ha detto a Matino me lo ricordo ci fa correre come cavalli ma questo vorrei non ricordarmelo ti ricordi quando a fine allenamento a me a te ci faceva correre perché ci avevamo la pancia ci faceva fare tre o quattro ripetute in più perché dovevamo dimagrire mi ricordo mi ricordo una volta l'unica volta che saltai una sola ripetuta una sola mi feci tornare il pomeriggio da solo sicuramente ci starà vedendo quindi magari anche la voglia di salutarlo ne approfitti Michel ma sì ne approfitto di salutare lui ma come tutti quanti l'ambiente giallorosso vorrei avrei voluto che lì ci fosse pure Marotta che per me è come un fratello anche lui quindi saluto lui saluto tutti quanti veramente li porto nel cuore allora io ti faccio un grosso in bocca al lupo complimenti bellissimo come si chiama tuo figlio? Lorenzo Lorenzo complimenti bellissimo e ti ringrazio veramente ti ringrazio per questa tua incursione ci ha fatto molto piacere grazie vi ringrazio a voi faccio un grosso in bocca al lupo mattino tanto poi ci sentiamo noi e un saluto grande a tutti quanti grazie a voi per l'invito grazie grazie a Michelle Cruciani ricordiamolo anche lui ha fatto parte di quel benevento che ha vinto la storica promozione girone di andata poi andò via a gennaio ed ora ora mi pare che ci siamo con il giochetto che tanto piace ai telespettatori poco a quelli studio perché vanno in ansia amato matematica no no non è matematica matematica slot machine e andiamo con Paolo Specchia che c'è per specchia Marcello Carlici avete fatto tanto divertire quando è venuto in studio con ricordi che veramente sono sempre un insegnamento per tutti noi questo direttore sportivo forse tu non lo sai perché non vivi l'ambiente viene anche parecchio criticato eppure gli si possono dare delle colpe per carità magari la scelta di Andrioletti però poi abbiamo sentito Amato la chiacchierata con lui è stata determinante ha scelto comunque Auteri la proposta a Vigorito che subito ha dato il suo consenso ha preso giocatori come Pinato ecco un direttore che comunque ha costruito dalle macerie dopo una retrocessione che abbiamo commentato insieme era qualcosa dove era difficile uscire da queste sabbie mobili non era certo facile il compito di Marcello è stato bravo perché già accettare il Benevento con tutti rispetto il Benevento perché insomma era veramente difficile poter ripartire sappiamo tutti quanto costa una retrocessione e poi una doppia retrocessione quindi è chiaro che per lui è stato durissimo però lo spessore dell'uomo Carli lasciamo perdere la competenza credo che devo per forza esserci perché io l'ho avuto da giocatore ed era un capitano che aveva già percorso tante tappe fino ad arrivare a fare il capitano del Livorno ma è stato un giocatore che viene dal basso un giocatore di quelli che si sudava la maglia perché era un centrocampista di grandi corsi di grandi sacrifici di grande temperamento uno di quegli uomini trainanti ecco quindi io credo che questo tipo di persone poi porta avanti il proprio lavoro con questa tua determinazione metodicità cultura del sacrificio umiltà e che sono già delle garanzie per il lavoro che andranno a fare perché credimi molta persona io i giocatori troppo dotati per esempio vai a vedere pochissimi riescono a fare le naturi a grandi livelli perché non si rendono neanche conto di quello che hanno quindi non riescono neanche a trasmettere abbastanza ecco quindi anche un direttore un direttore che viene dal basso per me molto responsabile ecco la responsabilità è uguale affidabilità credo che sia l'uomo giusto sono contento che sia arrivato qui si deve per forza meritare una promozione quanto prima possibile sicuramente dico già quest'anno mi ero già esposto quando sono venuto la prima puntata qua e ribadisco e poi credo che possa accompagnare non solo quest'anno il Benevento con un senso di responsabilità ecco quello dico io per carità non me ne vogliono gli altri però ho conosciuto anche Di Somme conosco anche Foggia però questo ha uno spessore umano che è superiore alla media e questo è una ricchezza per lui stesso e per chi se ne avvantaggia chi ce l'ha tra il proprio organico possiamo aggiungere anche sul piano delle competenze che parliamo di un direttore che ha portato in Italia l'attuale nuovo crack del campionato italiano che è Zirk Zee l'ha portato a Parma a Parma assolutamente sì non sapevo ancora di più allora ne tesso le loti perché insomma Zirk Zee può anche non piacere a molti l'anno scorso quando l'ho visto non mi aveva entusiasmato ma prendendo poi ecco condizioni inserendosi il giocatore straordinario questo sei un attaccante ma sembra un centrocampista che pieti fatali ma sa fare tutto segna di testa destro sinistro velocità acrobazia dribbling tutto complimenti a Marcello ed ora tocca a te Luigi vediamo che cosa c'è per te pazienza io so che hai visto la partita dell'Avellino con il Monterosi secondo te in tanti in molti continuano a sostenere che la promozione sarà una lotta tra il Benevento e l'Avellino secondo te ecco quanto può essere pericolosa questa squadra ma devo dire la verità che l'Avellino degli ultimi tempi è una squadra un po' in involuzione però credo che in questa serie ci guai a dare per morto prima del tempo qualcuno e non so se sinceramente l'Avellino sarà fino all'ultimo l'antagonista del Benevento in questo momento la protagonista è un'altra ed è la Juve Stabia e sta tenendo il passo e anche con qualche settimana d'appannamento col fatto che non è più brillantissima come prima non sembra più imperforabile anche la difesa perché per mesi la difesa è stata la migliore d'Europa della Juve Stabia e aveva un portiere che neutralizzava di tutto dai tiri ai rigori a conclusioni ravvicinate e adesso insomma come dire sembrano essere diventati umani anche loro e per quel che riguarda l'Avellino io invece penso che abbiano comunque l'ho sempre pensato abbiano un grandissimo organico però ecco qualcosa si è inceppato si è inceppato anche nel rapporto tra l'ambiente e l'allenatore che non gode più della fiducia della tifoseria dopo l'ultima partita a Monterosi che ha fatto il paio con quella di Potenza che fa il paio con quella in casa con la Juve Stabia a tre partite che l'Avellino si è fatto rimontare in pieno recupero e quindi è venuta fuori anche un po' qualche problematica inerente alla gestione della gara da parte di Pazienza con cambi che in questo momento vengono scontestati e con anche delle scelte che non vengono condivise e per cui soprattutto riferita a Gori per esempio che viene preferito sistematicamente a Marconi come primo sostituto di Patierno e anche ad altri calciatori come Pezzella lasciati in disparte a vantaggio di altri che non stanno rendendo secondo le aspettative adesso posso dire che a Gori l'Avellino l'ambiente è un po' una polveriera dopo il pareggio con il Monterosi ci sono un po' di e questo non aiuta ci sono un po' di difficoltà che devono in qualche modo superare ne hanno la possibilità perché ripeto hanno un organico molto forte di tutto rispetto cioè ripeto l'Avellino per lunghi tratti del campionato aveva un organico superiore a quello del Benevento quando il Benevento non aveva a disposizione Ciciretti Simonetti Pinato Pastina Terranova cioè in quelle condizioni di l'Avellino superiore quando poi adesso è evidente che adesso si aggiunge i tre nuovi acquisti la Nini Starita e Nardi se tutti quelli che allora avevano problemi fisici o avevano una condizione da ritrovare non erano a disposizione e in quel momento il Benevento non era all'altezza ma non solo dell'Avellino ma anche di qualche altra rosa tra le prime è evidente che adesso le cose siano cambiate e in questo momento il Benevento secondo me ha una prospettiva differente dalle altre lo dicono anche i risultati il Benevento è l'unica squadra imbattuta nel 2024 ed è quella con il percorso più netto dal 23 dicembre il Benevento non perde al primo posto con 21 punti non solo e nessuno ha fatto meglio del Benevento per cui e devo dire che mi pare che tra i tre gironi soltanto il Cesena forse è un rollino di marcia migliore in Serie C nel 2024 per questo ripeto ad Avellino devono aggiustare qualcosa non so come andrà a finire perché adesso pazienza sarà alle prese anche con delle difficoltà relative alla prossima trasferta di Cerignola che non sarà assolutamente semplice che dovranno giocarsi con due centrocampisti squalificati perché Armellino era diffidato ed è stato appietato dal giudice sportivo e anche l'espulsione rimediata da De Cristofaro nei minuti finali della partita fa sì che mancheranno due giocatori e in più Patierno pare abbia avuto uno stiramento e infatti è uscito alla fine del primo tempo problemi in casa Avellino ora andiamo da Giancarlo Zotti e a te a te tocca l'altro antagonista il Picerno con Longo il suo allenatore sconfitta col Benevento pari rimediato insomma prima di giocarsela col Benevento poteva addirittura raggiungere la Juve Stabia e poi in due partite che cosa è accaduto? è accaduto che chiaramente anche loro iniziano a sentire la pressione come dicevamo il mistero lo diceva sempre mi ricordo che loro chiaramente questo campionato l'hanno iniziato sì avevano fatto la squadra però chiaramente non pensavano di potersela giocare con corazzate come l'Avellino e il Benevento poi si erano trovati lì e continuavano a giocare il loro campionato senza dover nulla dimostrare è chiaro che però quando si è alzata l'asticella sono aumentate le aspettative anche loro hanno iniziato ad avere dei problemi poi mi sembra che i loro centravanti sono un po' di partite Murano che si è fermato un po' e quindi non riesce a fare così più facilmente a trovare le via del gol e quindi i problemi stanno venendo un po' fuori però secondo me loro c'è stato un momento che ci credevano anche loro che potessero giocare fino alla fine come penso che ancora ci credono però come dicevamo prima gli organici del Benevento e dell'Avellino e il vantaggio che ha accumulato la Juve Stabia farà sì che secondo me queste tre si la giocheranno fino alla fine tocca a te Amatino sei pronto andiamo andiamo vai chi sono? sono i tifosi pian pianino insomma li state riconquistando sì credo che comunque le due le due retrocessioni un pochino abbiano influito su questo perché io ricordo uno stadio abbastanza pieno quando quando c'ero io però dobbiamo dobbiamo riportarli dalla nostra parte c'è stato ci sono stati dei piccoli problemi che sicuramente hanno come ripeto hanno hanno influito ma noi noi dobbiamo fare solo quello che abbiamo fatto lunedì e basta scusami ieri ieri sì era lunedì lunedì perché prima sentivo domenica infatti quello che abbiamo fatto ieri e basta dobbiamo dobbiamo cercare di ricreare l'entusiasmo e credo che questo anche il mister un pochino lo ha fatto e niente giocare correre lottare perché tanto è quello che vogliono insomma ecco tifosi a casa che ci seguite belle le parole di Amato ma io ho voluto riprendere Luigi le parole di ieri di Auteri perché secondo me sono importanti la squadra sta dimostrando di esserci di voler esserci sabato ci sarà un'altra sfida comunque tosta da non sottovalutare per cui l'invito di Auteri ieri importante secondo me stasera merita di essere riascoltato ma questa vittoria mi fa piacere perché a parte il modo così in crescendo in cui è avvenuta penso che possiamo acquisire un po' di fiducia in più ma non noi noi dentro dentro di noi quotidianamente ce l'abbiamo essere un po' più credibili con l'esterno oggi c'era qualcuno in più allo stadio mi ha fatto un enorme piacere però io so che Benamento può portare tante altre persone allo stadio e quindi posso dire veniteci a seguire noi non vi deluderemo sicuramente questa ormai è una squadra che ha dei principi poi si potrà sbagliare dal punto di vista tecnico però giocheremo sempre un calcio corale intenso e di grande impegno da parte di tutti veniteci a seguire noi non vi deluderemo Luigi importante questo messaggio credo che è giusto che i tifosi tornino al vigorito purtroppo le notturne non aiutano però sabato sera è già diverso forse le famiglie sono limitate perché le temperature sono fredde ancora 30 partite su 38 giocate sotto la luce dei riflettori credo che non siano semplici per nessuno e vadano anche a discapito degli incassi perché è un danno che viene perpetrato ai danni di una società come il Benevento io credo che nessuno abbia un ruolino di marcia simile che è stato programmato e voluto dalla Lega Pro e quindi e che secondo me insomma non ci sono neppure giustificazioni che tengano perché è pur vero che a volte si tende a far giocare di sera le squadre del sud perché le temperature al nord a volte chiamano la nebbia e spesso la visibilità è ridotta però è anche vero che insomma questa cosa sta andando avanti sin dalle prime battute del campionato per cui immaginare al nord la nebbia a settembre insomma ad agosto mi sembra un po' eccessivo quindi si poteva anche scegliere di ruotare no? e di invertire facendo semmai giocare un po' prima le squadre del sud in quel periodo e poi successivamente invertire devo dire che in ogni caso ieri gli assenti è proprio la classica partita in cui gli assenti hanno avuto torto e credo che molti si saranno un po' sentiti come dire di friggere sentiti e di non essere stati presenti devo dire la verità ieri non faceva neppure troppo freddo rispetto e quindi si stava bene e ci poteva stare ecco ripeto c'è qualcuno che non finisce in tempo di lavorare lunedì può essere stanco e tutto il resto adesso c'è si gioca di sabato sera e quindi c'è un'altra settimana corta da fronteggiare e credo che che ci siano tutti i presupposti per venire a vedere questa squadra adesso che come dire è stata trovata e perfezionata l'intesa tra i calciatori tra i reparti si è creato questo entusiasmo posso dire che la partita di ieri ci ha riconciliato con il calcio un po' tutti e stamattina credo che tutti ci siamo svegliati con un sorriso 54 denti così di default cosa che non accadeva da qualche anno e quindi quale è il miglior presupposto per trovare una sorta di continuità di rendimento e di continuità anche nell'oggioire che cercare di riempire lo stadio e venire e convincere anche gli scettici insomma se ognuno di noi riesce a convincere anche un solo tifoso a venire allo stadio tra quelli che vengono io credo che si possa moltiplicare la presenza io penso che mi è successo a me io penso che i gesti come quello di Amato il gol che ha fatto per esempio è una di quelle cose che a chi piace il calcio poi ti porta ad andare allo stadio davvero io sono schizzato come un bambino al gol perché è davvero un gesto bellissimo e quindi chiaramente anche gli altri come diceva scusami Luigi ho visto anche in tanti spettatori questo fatto di esultare proprio così proprio con entusiasmo era un po' di tempo che non lo vedevo cioè la gente è sempre più pagata come diceva poi il Ciccio nel senso che le retrocessioni ci avevano un po' impigriti un po' tutti invece questa squadra questi gesti tipo quel gol che ha fatto Amato io penso che possa anche aiutare a riportare ci voleva anche il 4-0 come dice il mister perché le ultime partite le ultime sconfitte degli ultimi anni e le partite 1-0 rosicate oppure quelle partite brutte da vedersi avevano fatto perdere un po' di entusiasmo io penso che la partita e questi giocatori con queste caratteristiche possano far tornare il pubblico al vigorito e noi ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario non andate via rieccoci studio per questo rush finale e andiamo proprio entriamo nel vivo di quella che sarà la sfida di sabato contro il Foggia guardiamoci il servizio di Ivan Calabrese è un Foggia in netta ripresa quello che affronterà il Benevento al vigorito nel match in programma sabato prossimo con inizio fissato alle ore 20.45 dopo aver cominciato il 2024 con un rendimento totalmente negativo con soltanto un punto conquistato in sei partite i set anelli sono riusciti a conquistare tre successi consecutivi contro Monopoli Brindisi e Crotone importante la vittoria ottenuta ieri con i calabresi allo Zaccheria col punteggio di 2 a 1 dopo il vantaggio del Crotone firmato da Zannellato il Foggia ha ribaltato tutto nei minuti finali del match all'ottantottesimo è arrivato il pareggio di Silvestro poi l'esterno ha siglato il bis al novantesimo per il definitivo 2 a 1 Cudini ha schierato la squadra col 3-4-3 in porta Perina con la linea difensiva formata da Salines Carillo ed Ercolani a centrocampo Silvestro Ogiar Tascone e Vezzoni con Rolando Santaniello e Millico nel tridente offensivo il calciatore più presente è Carillo mentre i più prolifici sono Salines e Tonin che hanno messo a segno 5 reti il Foggia torna al vigorito a distanza di 5 anni e mezzo con l'ultimo precedente datato 30 settembre 2018 con i set anelli che vinsero col punteggio di 3 a 1 quest'anno invece la gara d'andata si è chiusa con il risultato di 0 a 0 allo Zaccheria Il servizio come sempre preciso di Ivan Calabrese avanti tutta col Foggia perché Paolo Specchia non bisognerà mollare di un centimetro non esaltarsi dopo la partita col Sorrento Credo che non accadrà perché l'anatore è talmente bravo che sarà più bravo ancora nel mettere l'accento sui rischi che si corrono quando apparentemente la gara è abbordabile più abbordabile del solito quindi Foggia Potenza qualsiasi squadra ora con quella determinazione che si è creata con l'euforia con il vento in poppa bisogna stare attentissimi perché non puoi permetterti non devi metterti uno scivolone mai Foggia magari è una squadra rognosa è tornato Cudini sta facendo bene sono tre domeniche che fa risultato quindi attenzione va affrontata col piglio giusto e con la pazienza che anche se subito fosse così brava come ha fatto il Sorrento ieri che inarribisce un po' il gioco si mette lì tutta a difendere se non è fallo e poi alla fine con la qualità che abbiamo detto si ritrova il pianamento con lo stato fisico degli eccellenti di tanti protagonisti io credo che si venga però mai trascurare mai sottovalutare l'avversario e questo credo che non capirà ripeto con l'anatore sempre molto attenta anche a queste cose che sono cose che contano Giancarlo il Foggia reduce da una vittoria sul Crotone forse è un bene sì forse è un bene anche se a dir la verità da quando hanno ripreso Cudini perché loro chiaramente hanno ricambiato l'allenatore viene da tre vittorie tre vittorie consecutive magari col Crotone so hanno giocato hanno giocato bene perché io ho sentito l'intervista di Baldini dell'allenatore che aveva cambiato anche il Crotone ha detto che loro comunque non avevano meritato assolutamente la vittoria perché Foggia aveva giocato meglio quindi è una squadra in salute e come diceva il mister noi purtroppo come stiamo dicendo da sempre non possiamo sbagliare cioè Benevento per la situazione in cui si è venuta a trovare non può perdere punti assolutamente se vuole cercare di vincere in campionato in modo diretto senza passare per i playoff Luigi Pastina squalificato la probabile è ancora presto è martedì ancora presto ma poi tra l'altro insomma anche quando Uteri fa le prove non si capisce quasi nulla quindi devo dire che li tiene sulle spine fino all'ultimo e tutti hanno come dire in questo modo la convinzione di poter giocare di poter rientrare nell'undici iniziale e questo significa tenerli tutti sul pezzo belli caldi e pronti immagino che in difesa insomma il cambiamento sia quello che ha fatto già nel secondo tempo con Capellini a destra Berra a sinistra e Teranova in mezzo e poi a centrocampo è un po' punto interrogativo perché mi spiego Auteri è uno che non guarda soltanto la settimana guarda anche molto la partita l'ultima partita quindi io credo che ha feedback positivi sicuramente su Pinato che ha fatto bene anche su Talia che è entrato bene secondo me rischiano Masciangelo e Starita che sono stati quelli un po' più opachi nel primo tempo però è punto interrogativo da capire secondo me un Ciano così è difficile da tenere fuori magari dall'inizio Ciciretti Ciano Lannini e a centrocampo secondo me Pinato potrebbe essere una chiave così come potrebbe essere un'altra chiave Simonetti confermato a sinistra perché è entrato bene secondo me verrà riconfermato in prota alla luce di quello che poi dipende anche molto dalla settimana ripeto con Auteri le sorprese sono dietro l'angolo voi giornalisti me compreso dimenticatevi di azzeccare la formazione fino a mo' eppure a me qualche volta è capitato e vabbè sei stata fortunata allora che ti devo dire sicuramente fortunata Amato hai fame? un pochino però non puoi mangiare quindi stiamo facendo il tuo bene galletta di riso perché col Poggia bisogna arrivare pronti fondamentale questa partita sì come ho detto prima passa passa tanto dalla partita di sabato anche perché giochiamo giochiamo prima prima della Juve Stabia e comunque vincere mette un pochino di pressione secondo me a loro perché giocando dopo e andandogli a quattro punti se dovessimo vincere è un po' di pressione la mette dai comunque anche io ho fatto campionati in cui magari eri primo e avevi dietro le altre squadre e giocando dopo prima che magari l'altra vince la partita è fastidioso c'è il rischio che ti venga il braccio sì assolutamente siamo pronti per il triplice fischio vi ricordo che 8 gol tornerà normalmente di lunedì alle 20 e 30 domani 16 Napoli per il recupero infrasettimanale di Sassuolo Napoli poi ci sarà Prenditi Cura di Me e giovedì Focus Serie C 20 e 30 sempre per parlare di Serie C grazie Paolo Specchia è sempre bello averti qui perché a parte che sei stato un grande allenatore ma poi ci dai consigli sempre interessanti Autario non ha bisogno di consigli io sono felice di far parte della famiglia Otto Channel e credo veramente che quest'anno il Benevento tornerà dove merita buona serata grazie a Paolo Specchia non ci saranno dubbi lui sugli spalti del Ciro Vigorito ci sarà grazie Giancarlo Zotti grazie a te Sonia grazie per l'invito e speriamo che anche sabato ci facciano divertire e poi un grazie a Luigi Trusio che chiaramente in questi giorni attraverso le colonne del mattino vi informerà e si avvicinerà il più possibile a quella che sarà la formazione di sabato contro il Foggia grazie Luigi grazie a te Sonia stasera hai fatto golla anche tu perché sei riuscito a chiudere per la prima volta in orario siete stati bravi voi siete stati bravi voi lo abbiamo fatto anche per Amato Ciciretti perché si merita un no Pagnino no perché Euterri ci sta vedendo gallette gallette si merita una gallette grazie complimenti e continua così perché la strada è quella giusta grazie ad Amatino Amato Ciciretti grazie a voi grazie a voi che dire che dire vincere convincere e emozionare le tre parole che il Benevento sta provando a trasmettere a voi tifosi c'è riuscito in trasferta col Picerno si è ripetuto in casa col Sorrento ora tocca a voi dare fiducia a questa strega targata a Gaetano Auteri sabato appuntamento importante al vigorito contro il Foggia noi ci saremo dovrete esserci anche voi così come lunedì alle 20.30 su 8 Channel buonanotte buonanotte